Ciao a tutti ragazzi, qui è Gesine Gino e siamo qui con il secondo episodio di Stiltink 2 E quest'oggi andremo avanti con la storia Ho letto un pochino i vostri commenti, siamo arrivati a ben 360 mi piace, una cosa del genere Quindi sicuramente continuerò la serie, continuate a lasciare tanti mi piace Arriviamo di nuovo almeno a 300 like per continuare la serie, così almeno so che la volete ancora e non vi annoi Comunque ho letto anche dei commenti dove mi spiegavate che in pratica lo scienziato è arrabbiato con noi, cloni Perché in pratica noi stiamo sfuggendo e lui prende punti scoprendo i cloni difettosi Quindi noi se scappiamo, lui sta in seconda posizione perché ha un punto in meno rispetto al primo Quindi noi dobbiamo sopravvivere, così lui non arriverà mai primo e noi conquisteremo il mondo Andiamo avanti Allora ragazzi, come detto l'altra volta, adesso abbiamo la mappa e possiamo andare avanti Ops Allora, probabilmente dovremmo andare qui Qui è chiuso Qui c'è questo Ok Questo è l'ascensore che torna su e ce lo riapre Perché non possiamo andare lì? Io non capisco come si fa andare in quei posti Allora C'è questo pulsante che devo capire cos'è Ci apre ancora una strada Ma no, forse dovevo andare lì per aprire il co... questo scusate Vedi, sti cosi ci aprono delle vie, quindi evidentemente Forse sotto, per prendere quella valigetta, che non so ancora cosa sia Dovevamo andare su quei cosi, su quelle strisce Dannazione Allora, andiamo qui Sono visibile, ok Cos'è questa luce rossa? Qui non si può andare Saliamo Lì è chiuso Comunque, continuate a supportarmi anche con i commenti Dicendomi dove sbaglio Cosa potrei fare di più, di meno Cos'è che magari non vedo Noi continuiamo andando avanti per il momento Mi sta portando a fare test Ma io non li voglio fare test Dannato uomo Devo portare questo coso qua Ah, ok Ah, devo fare il giro Perfetto Infatti dicevo, non capivo come dovevo fare Onestamente Ah, come vedete Se ho problemi di Di cali di FPS È perché come ho detto l'altra volta Questo gioco è stato riscontrato Anche scritto sui forum Che ci sono parecchi bug Parecchi difetti ancora E lo stanno ancora perfezionando Ok, andiamo di qua Si comincia Sto per fare un test Ok Si torna dentro Premix per iniziare il test Vabbè, iniziamo il test Inizia il test Quindi adesso ci saranno Dei piccoli labirinti forse Bentornato Ok Segui le regole Col cazzo Arriva fino all'uscita Ecco mi ha fatto cadere Porco 2 No Oh porco Oh Allora Ma what? Ok 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 Oh No Ce l'ho riuscito Ok 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 Thank you Perfetto Abbiamo fatto il primo test Primo test Rank A Ottimo Va bene Andiamo avanti Grazie signor Qua Ci aprirà sta porta Perfetto Secondo test Facciamo il secondo test Ragazzi Ok Qua no Perfetto Grazie zio Sempre gentile E' bello perché vedi Prima di te Ci stanno questi cloni Che ti fanno giocare di gruppo Che ci sta qua Nice Guarda 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 Che bel Hug Che c'è Ops Non c'ho ancora I riflessi Pronti Per fare Sto Cosa Oh Ho rischiato La Quasi Apre Quello Immaginavo Ok 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 Ho capito Portiamo questo Qui sopra E Quello io ho visto che si illuminava Quindi ci sarà un laser Quello Quello non lo premo Verde Ah ok Ma ha rischiato pure lui Vai mettete qua zio Bella Grazie Cosa apro qua Non lo so Non mi interessa Ah là sopra Ok ho visto Io ora metto qui Ok lui sale Ah potevo già andare Ok No Devo aprire io Lui E in effetti Mi aveva detto Fai attenzione Ok È perché lui Stava passando Sopra quei cosi E quindi Quei cosi attivavano Il laser sotto Vedete Pa 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 Grazie bro Finito anche questo Dobbiamo buttare giù Questo Perfetto Ora lo mettiamo su quello E ce ne possiamo scappare in due Nice Perfetto ragazzi Anche il secondo test È andato a buon fine Un'altra Perfetto Un'altra Ci sta di brutto Ora andiamo di front Stai andando bene Grazie Grazie zio Allora ho sbagliato lì Perché mi ha tirato una laggata scena Wow Ok Saltiamo qui Ormai qua devi essere preparato a tutto Perché se no muori Ok ragazzi Siamo arrivati di fronte al terzo livello Penso che possiamo chiudere qui Per questo episodio Ricordatevi di supportare la serie Con tantissimo mi piace E ormai Visto che stiamo ingranando Magari possiamo fare sempre più livelli Dentro lo stesso episodio Quindi Vi saluto Ricordatevi di lasciare tanti commenti E tanti mi piace E al prossimo video Ciao 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 Grazie per la visione!